ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale da Michele come ho già detto nel precedente video questa è la seconda parte di due sono cotto ragazzi questo è il quarto video se non sbaglio che faccio e da oggi pomeriggio sono cotto vi chiedo scusa ve l'ho già spiegata la motivazione di questa seconda parte non vi voglio ancora annoiare per cui ho smontato dei pezzi che nel finale dell'altro video avevate visto perché non li ho registrati ok ragazzi andiamo avanti allora eravamo rimasti a questi pezzi qui ok dove qua all'interno abbiamo questi sono i rostri abbiamo all'interno le lettere r da una parte destra right e left sinistra dall'altra ok purtroppo non vi ho fatto vedere li ho già inseriti per cui contrariamente a quello che vi ho detto prima quando ho stoppato il messaggio forse mi è partita anche una parolaccia anzi in level air forse vi avevo detto che questi due pezzi qui che sono praticamente nient'altro che quelli che poi escono fuori vedete dal paraurto non vanno messi così come vi viene viene nel senso guardate cioè che questo potete metterlo di qua e questo di qua no assolutamente sotto abbiamo delle lettere ok abbiamo delle lettere in questo caso qua sotto abbiamo la r perché qua c'è anche scritto la r sul rostro e qua abbiamo la l che non vi posso più far vedere ma la potete trovare nei vostri pezzi e quindi andate a mettere le lettere corrispondenti quindi ragazzi mi raccomando ho commesso un errore solo che non ve l'ho potuto dire in quel video perché è successo quello che è successo e quindi ho dovuto smontare tutto e sono qui di nuovo allora come li montate con la lettera rivolta di questo perno qua verso il basso però per non sbagliarvi qua avete diciamo il difetto della fusione vedete da qua e da qua ecco va l'ha messo verso questa parte qui non in battuta qui sopra il rostro qui sopra il rostro deve essere perfettamente a posto il difetto è qua che non lo vedrete infatti hanno fatto una cosa intelligente anche qui l'hanno messo da questa parte quindi ecco r con r e il difetto verso la parte dove ci vanno poi le viti ok qui e qui io sono andato a tagliarlo con un taglierino per farlo combaciare poi bene sopra qua così ok non serviva ho visto dopo ma l'ho tagliato lo stesso qui intendo questo pezzo guardate adesso vado a toglierlo questo pezzo qui sono andato a rifilarlo qua sotto mettiamo a fuoco cribbio non si mette a fuoco ok sono andato a rifilarlo col taglierino qua prima di montarlo ovviamente comunque ragazzi procediamo al montaggio adesso questo ve l'ho detto mi raccomando guardate la lettera di questi pezzettini perché non è uguale montarlo a destra o a sinistra ok poi prendiamo come ci dice qui la coppia dei rostri e andiamo a posizionarla vedete qua abbiamo ci aiutano anche qua abbiamo le lettere L e R sinistra e destra left e right ok quindi andiamo a prendere chiaramente posizionando così come in figura il nostro bel paraurto e andiamo a prendere la L questa è la R no la L che è quest'altra perfetto c'è scritto dietro e andiamo a posizionarla qui in questa maniera e la blocchiamo con una vite BP questo ragazzi come avete visto nelle ultime foto avevo già montato tutto ma l'ho dovuto rismontare perché è giusto che sia così quindi andiamo a mettere una vite BP per la plastica andiamo ad avvitarla senza stringerla troppo facciamo la stessa cosa di qua R chiaramente per esclusione che bello ragazzi che bello questo modello secondo me oltre che mitico è veramente bello e là voilà ok qui abbiamo i perni per la direzione vedete questo uno e due però vi danno lo stesso qualche millimetro di ve lo dà di gioco quindi lo girate lo mettete più o meno diritto come vi sembra a voi ragazzi senza impazzire così e lo stringete quando lo stringete lui si sposta di nuovo verso il lato in in cui girate il cacciavite ovviamente no quindi poi al limite dopo che lo avete stretto lo andate a riadrizzare di nuovo vedete che si è spostato infatti ecco qua perfetto ok a questo punto ci dice di unire questa magnifica questo magnifico musetto non so ragazzi se ve l'avevo già detto nell'altro video va bene lo ripeto questa questa griglia è metallo non è plastica come avevo già detto se ve l'ho detto pace ve l'ho detto una volta in più e se non ve l'ho detto ve l'ho detto adesso questo è metallo nell'altro video ho detto che era di plastica invece di metallo bel pezzo ragazzi allora andiamo a prendere il musetto come ci dice così in foto qui vedete ci dice così la targa da questa parte andiamo semplicemente ad unire il pezzo in questa maniera aspettate così ecco e lo blocchiamo con una due viti bp ok appuntate poi la stringete bene dopo eh fate sempre controllare davanti è tutto a posto sì ma che bella ragazzi guardate ragazzi se vi sembra bella qui nei video e secondo me sì non avete idea veramente di quanto sia bella dal vivo ragazzi guardate che qui abbiamo speso ho speso quattro euro 5 99 per il secondo numero quello che stiamo montando adesso e 50 centesimi per il primo ma anche se non fate la collezione ma vi sembra che io vi stia dando un brutto consiglio un cattivo consiglio non so un consiglio sbagliato ragazzi ma guardate cosa avete con 5 euro e 49 centesimi 4 99 più 50 centesimi guardate che gadget avete da tenere anche lì se ammate questa macchina e avete intenzione di non farla per una ragione o per l'altra ragazzi ma stiamo scherzando è bellissima bellissima tra l'altro un ragazzo mi ha scritto non lasciate troppo a bagno le calcomanie che sono foto incisioni metalliche metalliche foto incise perché poi va via troppo il collante non serve tanto adesso poi vi faccio vedere sul parafango come si fa ok ragazzi così non correte rischi poi tenete sempre presente costa 50 centesimi il primo numero acquistatene tre o quattro io ne ho presi cinque cinque ragazzi di questi cinque perché sono belli chiaramente ce ne ho uno qui e ne compro un minimo altri due perché metterò anche il musetto magari che starà bene insieme alla macchina perché no ragazzi è bellissima comunque ognuno fa le sue scelte ragazzi io vi do questo consiglio poi vedete voi dopo aver fatto questo abbiamo finito completato il musetto e non so che altro dirvi perché è stupendo è stupendo bellissimo lo mettiamo un momento da parte e andiamo a fare il parafango sinistro ok tutto in metallo abbiamo già visto su questo parafango andiamo ad inserire questo che è la plastica arancione della freccia sinistra che poi si illuminerà perché abbiamo anche il foro all'interno per il led quindi andiamo a metterla non ha importanza metterla così o così ragazzi è uguale controllate solo che sia pulita dentro perché la mia era sporca di cartone e l'ho dovuta pulire ok così poi andiamo a prendere questo non vi potete sbagliare perché guardate adesso mi avvicino anche se è tutto spiegato perfettamente bene anche in questa foto qui è spiegato veramente bene questo fascicolo e l'altro quindi è difficile che vi sbagliate ragazzi più che altro i miei consigli servono ad evitare che possiate rompere dei pezzi per chi è meno esperto ok ragazzi allora guardate vedete che qui come vi ho detto avete una freccia ma l'avete anche qui aspettate che metto a fuoco se ce la faccio eccola qua vedete la freccia in su non potete sbagliare inserite questo appoggiate questo io ragazzi guardate lo levo un attimo qua ci vanno due viti cm che sono queste per il metallo m metallo ricordatevelo io me le sono già filettate prima ragazzi se voi guardate qui non so se si vede c'è già il filetto ma è difficile che riusciate a vederlo perché questo è un metallo dolce zama credo non è alluminio perché troppo pesante meglio così almeno da un po di peso e quindi questa vite che è di ferro acciaio diciamo ferro acciaioso va a creare il filetto questo perché perché essendo che dobbiamo avvitare della plastica sul metallo noi incontreremo continuamente resistenza e non ci rendiamo conto magari se non stiamo attenti alla battuta quando arriva in fondo stringiamo convinti che ancora dobbiamo avvitare spezziamo la plastica se le passate prima questo è impossibile che vi possa accadere ragazzi perché perché il cacciavite girerà molto più libero e quando sentirete la resistenza vuol dire che siete arrivati alla fine allora abbiamo detto di poter posizionare questo come vogliamo nel senso o da una parte o dall'altra non vi potete sbagliare qui mettiamo la freccia verso l'alto ve l'ho già fatta vedere prima andiamo a posizionare questo sopra così prendiamo una vite cm e andiamo inserirla così non importa se si muove vediamo se riusciamo a vitarlo così perfetto non la vitiamo tutta perché qua adesso è storto ovviamente ne prendiamo un'altra e andiamo a metterla qui vedete ho dovuto fare un video praticamente finito io parlavo con il telefonino in pausa ragazzi col telefonino in pausa parlavo ecco qua vedete guardate guardate solo come si avvita provate a farlo se non passate la vite guardate come si avvita sto svitando guardate sto svitando la vite guardate come l'avvito e guardate quando arriva in fondo come si ferma tac non va più ecco qua vedete prima di avvitare forte controllate bene che qui sia tutto a posto aspettate perché qui non è tutto a posto allentiamo un po' per quello vi dico non fate l'errore dovete controllare anche dietro poi questo deve essere a filo ragazzi se sentite il dentino avete sbagliato come sto facendo adesso io vedete vedete perché i miei filmati sono più lunghi ragazzi io non mi limito solo a spiegarvi le cose così fatemi fare una prova così è perfetto se invece io lo metto così cosa succede perché voglio vedere che non vi abbia dato una falsa informazione ragazzi allora qui c'è un po' di gradino scusate ragazzi abbiate pazienza ma io voglio essere sicuro di quello che dico niente ragazzi ascoltatemi bene cancellate quello che vi ho detto prima destra sinistra uguale cancellatelo un momento voi inseritelo da un lato lo fate combaciare bene poi guardate che qui si a filo ci deve essere appena appena un capello di scalino ragazzi pochissimo guardate vi faccio vedere vedete perché se io lo giro dall'altra parte che sembra identico ma ragazzi il mio non entra quindi sembra strano vedete guardate cosa succede aspettate che vedo se metto a foto sto benedetto telefonino vedete che il radino grosso che rimane non riesco se invece lo giro di qua riesco eppure non c'è scritta nessuna direzione comunque ragazzi fate questa prova ok lavorate così e poi lo guardate di qua deve essere a filo così per capirci perfetto così ok ragazzi vedete quante se le imparano è in caro in diretta con voglio però queste cose ragazzi ma chi ve le dice chi ve le dice ragazzi Michele poi c'è chi si lamenta dice ma i tuoi video sono troppo lunghi e ragazzo che devo fa ti posso spiegare queste cose qui montando semplicemente senza spiegare nulla soltanto guardando le istruzioni ci metto otto minuti a fare un video anche io ce la faccio ok ma a me piace fare così spiegare alle persone meno esperte e dare dei piccoli consigli vedete se voi non le passate prima le viti rischiate di spaccare questa plastica qua argentata o anche questa arancione perché perché non mi rendete conto quando avete finito io invece me ne rendo conto perché appena diventa duro vuol dire che è arrivato in fondo qui siamo perfettamente a filo quindi va bene appena appena un gradino c'è ragazzi è non è che proprio a filo a filo appena appena un gradino guardate che bello c'è il foro dell'illuminazione del led ok a questo punto dobbiamo mettere i loghi qua andiamo a prenderli gran torino che belli che sono questi bellissimi e lo mettiamo posizionato qua in mezzo ci fa vedere aspettate che metto se riesco a fuoco vedete questi lo vatti già vedere prima uno e due segni più questo centrale ci dà la direzione giusta bravi veramente della scelta veramente bravi io apprezzo molto questo quindi andiamo a mettere a bagno il primo l'altro no perché servirà poi nell'alto parafango magari poi ce ne danno uno in più ecco ragazzi allora come fate fate così il consiglio che vi do non serve lasciarlo a bagno dieci minuti guardate lo mettete a bagno ok e lo tirate fuori basta lo tirate fuori ok ragazzi e lo lasciate lì semplicemente così e adesso metto un momento pausa sperando di ricordarmi poi di rimettere se no faccio il terzo di rimettere di nuovo l'avvio se no faccio il terzo video ragazzi mi ricovero a questo punto metto la pausa ragazzi ok così aspetto che diventa morbida la scritta vediamo a che punto è eh guardate visto avete visto quanto ci va è già posto non metto nessuna pausa a questo punto prendo un pezzo di carta non cotone perché vi rimangono i pezzi sotto magari ragazzi e lo passo qua inumidisco un po' leggermente ok poi prendo la mia scritta gran torino eccola qua aspettate ragazzi che lo so che sono fuori adesso fuori immagine adesso mi metto dentro mi avvicino anche un po' se riesco aspettate così vediamo più nel dettaglio se ce la faccio e non faccio vedere il mondo per terra ok leviamo un momento questo perfetto andiamo a far scivolare sopra semplicemente la scritta vedete la o la o di gran torino madonna eccola lì deve andare perfettamente in linea con questo cerchio qua ecco questa è un po' d'acqua che è rimasta con questo cerchio qua vedrete il semicerchio ecco molto semplice allora mettiamoci qui poi l'avvicino vi faccio vedere avviciniamo questa voi non usate il ragazzi perché se non avete un po' di esperienza rovinate tutto prendete piuttosto uno stuzzicadenti ma non serve neanche leggerissimo guardate ecco qua a questo punto ecco non prendiamolo dal centro come ho fatto adesso perché ho notato che si potrebbe rovinare ok adesso ve lo avvicino vi faccio vedere guardate ragazzi non so se vedete la linea bianca aspettate qui la vedete la linea bianca che c'è leggera leggera qui invece è coperta quindi la tiro appena appena più in là finché la copro questa non si deve vedere la linea bianca però attenzione a tirarla perché dovete farlo subito perché se la spingete troppo la spezzate in metà spezzate qua il pezzo quindi andiamo a tirarla scusate ragazzi mi allontano ma devo fare questo lavoro in fretta poi vi faccio vedere che non la vedrete più se non scorre la bagnate tanto il collante è sotto la bagnate un po' aspettate non abbiate fretta se non si sposta ragazzi qua il fuoco va a farsi benedire figuriamoci ok ecco qua direi che è perfetto così asciughiamo adesso vi faccio vedere che non si vede più né destra né a sinistra guardate i segni sotto vedete oh madonna che vedete non vedo niente nemmeno io aspettate ok vedete è perfetto allora un attimo solo ragazzi sono di una pignoleria lo sposto ancora un po' metto in pausa perché lo voglio spostare ancora di ma neanche un millimetro ma perché io sono Michele sono di una pignoleria incredibile ragazzi metto in pausa un attimo eccoci di nuovo qui ragazzi in diretta mi sono ricordato stavolta di farlo ok ragazzi perfetto a questo punto adesso non mi piace di più a questo punto comunque ragazzi ricordatevi che i due segni laterali devono essere coperti qui dalla parte sinistra dalla G e dalla parte destra dalla mezzaluna qua della O ok non vi potete sbagliare ragazzi ok mettete un po' d'acqua sotto non pressateli subito perché sennò fate fatica poi come ho fatto io adesso a spostarli va bene ragazzi io ho finito questo mio video volevo soltanto farvi vedere un'ultima cosa lo spostiamo un po' qua volevo farvi vedere se ce la faccio però devo alzarlo perché sennò non ce la farò mai già forse così non ce la faccio figuriamoci volevo assemblare ora guardate questo musetto quanto è bello che vi devo dire ecco qui guardate qui ragazzi che spettacolo è che bello sono veramente contento l'ho già detto lo ridico lo ridirò sono contento bene ragazzi a questo punto e meno male perché sono veramente cotto ragazzi avrò fatto quattro video oggi poi dovrò correggere ma adesso vado a mangiare sono le 11 e mezza mezzanotte non lo so allora volevo chiudere semplicemente così questa meraviglia qui abbiamo il parafango dove lo mettiamo così ok qui abbiamo il piccolo lampeggiante sopra che non lampeggia e volevo fare inquadrare bene anche tutto ma non ce la faccio va bene ragazzi grazie per avermi seguito e vi ringrazio anche per la pazienza ragazzi io ne ho tanta ma voi non è che dovreste averne per me però io vi ringrazio se ne avete avuta e mi avete seguito anche in questo video ricordatevi se avete piacere di iscrivervi al mio canale sono cotto ragazzi sono cotto chissà se sto dicendo delle cose senza senso ok ragazzi e se mi iscrivete io appena mi sarà possibile leggervi vi risponderò ci mancherebbe tenete solo presente che non mi arrivano i messaggi le notifiche dei messaggi che mi arrivano sul canale che mi iscrivete sui canali sul canale chiedo scusa per cui quando mi capita che li vedo ragazzi me ne accorgo io vi rispondo sicuramente grazie ragazzi grazie del vostro tempo seguitemi guardate la mia playlist condividete i miei video se avete piacere ancora più di aiutarmi e mi raccomando ragazzi mi raccomando perché mi state aiutando veramente tutti grazie con tutto il cuore un abbraccio da Michele e al prossimo video ciao ragazzi ciao